Buonasera, ci troviamo qui nella suggestiva Via Immacolata, sono in compagnia di un amico di sempre, Danilo Mazzei, che devo ringraziare perché mi coinvolge in questa iniziativa straordinaria, la festa dei cinquantenni, tutti coloro i quali sono nati nel 1968, quindi il saluto mio in qualità innanzitutto di amico, di concittadino e poi orgogliosamente, grazie a voi, di Primus Interpares, di amministratore e soprattutto di padre della comunità di Carmiano. Il saluto a tutti quanti voi, che questo sia un anno per tutti voi straordinario, bellissima iniziativa, a tutti gli amici che sono nati nel 1968 di Carmiano e di Magliano. Un ultimo cadò, l'amico Danilo mi ha, tra virgolette, fatto questa piccola confidenza che c'è a Carmiano, un gruppo musicale tutto rosa al femminile che si chiama Bad Girls, sono le cattive ragazze che non vedo l'ora tra l'altro di vedere all'opera, per cui colgo l'occasione per formulare una richiesta di invito, vorrei essere presente quando loro si esibiranno. Grazie ancora a tutti voi. Auguri a tutti i cinquantenni del 1968 di Carmiano e Magliano. Ciao, tanti saluti e auguri a tutti i cinquantenni del 1968 di Carmiano e Magliano. Dal pub Baraka di Molpetta. Un saluto a tutti. Ciao Danilo. Ciao. Tanti auguri ai cinquantenni del 1968 di Carmiano e Magliano. Ciao. Tanti auguri a tutti i cinquantenni del 1968 di Carmiano e Magliano. Ciao. Tanti auguri a tutti i cinquantenni del 1960 di Carmiano e Magliano. Diamo un augurio per i cinquantenni del 1968 di Carmiano e Magliano. Ciao. Arrivederci. Benvenuti al Banco degli strumenti di Lecce. Tanti auguri ai cinquantenni del 1968 di Carmiano e Magliano. Auguroni. Auguroni. Ciao ragazzi, auguri a tutti i cinquantenni del 1968. Auguroni. Buon divertimento. Buon divertimento. Buona serata. Che cazzo tacuare. Grazie.